Ma c'è un nuovo video Il caso del benzenario di Brescia Scusa, in che senso? Di Brescia? Ma aspetto una Ma è di Brescia? No, raga, io non pensavo Figa Che brutta storia L'ultimo L'ultimi drammi Il video del benzineo di Brescia Poi video serie Ma io non sapevo fosse di Brescia È un bruscino Il video del benzineo di Brescia È diventato super virale in questi giorni E sono certo che anche tu Ne avrai sentito parlare Ma quello che forse Perché Twitter dice le cose Sempre soghignando tipo Come se stesse ridendo sotto i baffi Ve lo giuro Se non tutti sono al corrente Sono le disastrose conseguenze di quel video Come le reazioni delle persone Che sono andate decisamente troppo oltre Del video Esatto, io adesso voglio vedere Da che parte si schiererà A Twiner Cosa dirà? Io una mia opinione ce l'ho Riguardo al video E riguardo a quello che Hanno combinato le persone Sui social Ma cosa dirà Twiner? Gli scuse di questo signore Di cui si parla Da Raga Che hai visto il video Del benzineo in cui si scusa? Ma? Per tutto E di come questo video Così assurdo Si è diventato virale Meglio se non Se non l'hai visto Cyber Te lo dico per Un tizio si è fatto Un tatuaggio Di quella scena E poi ci sono Cosa? Non ci credo Si è fatto il tatuo Ma che cazzo Di problemi hai? Non hai sentito? Tutto? E di come questo video Così assurdo Si è diventato virale Non solo in Italia Ma anche nel mondo Anche in America Dove addirittura Un tizio si è fatto Un tatuaggio Di quella scena Cioè ma ti rendi co? Ma che cazzo Di problemi ha sto ragazzo? Nel mondo Anche in America Dove addirittura Un tizio si è fatto Ma che problemi hai? Non ci credo Un tatuaggio Ma non Wolf è ben diverso Cazzarola No io sono senza parole Fatto bene Ma che cazzo Ma che cazzo Dare questa pompa Per la benzina Dentro la sua macchina Decide di infilarla Da un'altra parte Diciamo Nella sua uscita posteriore L'uscita del retro E nel frattempo Con l'altra mano Si occupa di lavori Di fare gnameria Mettiamola così Si dice spesso Che gli uomini Non sanno fare più cose insieme E che siamo negati Per il multitasking Ecco quest'uomo Penso che abbia sfatato Questo mito Tutto quanto da solo Senza dubbio Comunque una scena Abbastanza traumatizzante E qualcuno che passava di lì Io raga Ve l'ho detto Come l'ho visto L'ho visto in live Non l'ho fatto vedere in live L'ho visto in live Perché ho aperto Ho preso il telefono in mano Ho aperto il gruppo Di Whatsapp Mi sono visto Mi sono trovata Tra i messaggi Un video Specifichiamo di chi Muso Il canale è Muso Di Twitch Ho detto Ma che cazzo manda Perché non era un link Era un video Cioè l'ha proprio Cos'era L'ha salvato Sul telefono L'ha mandato Ho detto Ma che cazzo Sarà Che cazzo sta facendo L'ho aperto Guardo Poi il video Viene zoomato E si vede Tutto quello Che ha appena Descritto Twiner Io così Sono rimasta Traumatizzata Raga E poi Leggevo i giorni dopo Su Twitter Su Su threads Tutta la gente Anche su Su TikTok Nei commenti Che scrivevano Raga ma il video originale Chi me lo manda Voglio vedere Voglio vedere Voglio vedere Ma che cazzo Di problemi hai Cazzarola Ha pensato bene Di filmarlo A questo punto È difficile L'ho visto Contro la mia volontà Se avessi potuto scegliere Non l'avrei visto Oppure con qualche suo amico Ma fatto sta che diventa Immediatamente Virale All'inizio viene singolarmente Condiviso tra le persone Che se lo mandano Tra di loro E in seguito diventa virale Anche online E qui è dove Esplode veramente In tutto il mondo E su questo Però raga Com'è possibile Che sia stato Che sia stato Postato su TikTok Non censurato Dopo quanto tempo Il video originale È stato rimosso Perché sapete Che su TikTok Viene tutto Rimosso Immediatamente Cioè sai che su TikTok Non È molto Probabile È poco Possibile Trovare dei video Effettivamente Con delle scene Particolari TikTok è più o meno Save da quel punto di vista Certo Qualche Qualche volta De può uscire Qualcosa di attimo Di spinto Io Non credo Di aver visto mai Nulla di strano Se non Della merda Credo Basta Però Normalmente è pulito TikTok Da quel punto di vista Dipende dal contenuto Eh tipo Quel video Cazzarola Era Non so Quanto ha girato Se si vede subito E viene tolto subito Cazzo Però era andato virale Sono TikTok Senza dubbio Ha avuto un ruolo chiave Infatti ci sono video Con milioni E milioni di views Che pur non condividendo Direttamente quel video Perché chiaramente Sarebbe bannato Scrivono frasi tipo Ho visto quel video Del benzinaio E mi ha traumatizzato Solo che ha visto quel video Può capire Non cercare il video Del benzinaio E tutte frasi di questo tipo Che portano le persone A essere curiose Per quello che è successo E quindi Cercarlo online Vederlo Allora volta Fa ripartire questo ciclo Una cosa tra l'altro Abbastanza divertente È che questo video È diventato virale Come il benzinaio A Brescia E non so Da dove sia nata Questa cosa Perché tutte e due Le cose Non sono vere Innanzitutto Quel tizio Almeno da quanto Si legge online Non è davvero Un benzinaio Semplicemente Si trovava lì Perché Gli piace l'ambiente Vabbè Ok Ma infatti Io leggevo Che non era A Brescia Leggevo Un'altra città Un altro paese Non lo so Evidentemente Ci sono alcuni oggetti Di suo interesse E seconda cosa Non è neanche stato Registrato A Brescia Ma questo ci fa capire Ancora di più Con quanta facilità Delle informazioni Non vere Vengono condivise Fino allo sfinimento Al punto che Molte persone Pensano che siano vere Questa enorme viralità Del video Su questo presunto Benzinaio di Brescia Ha poi portato A un enorme numero di gente Alla ricerca disperata Di quel video E quindi gente Che ha cominciato A scambiarlo Per un po' di follower Infatti Vi basta aprire Qualsiasi sezione Commenti Per notare Tantissime persone Che dicono di mandarlo A chiunque li seguo Su Instagram O su altri social Cosa abbastanza squalida Ma onestamente Non mi soppone Neanche più di tanto Perché succede sempre Con ogni video Di questo tipo Quello che ho notato Però in questo caso È che ci sono state Due enormi fasi Di questa viralità Di questo scandalo Del benzinaio Non è un benzinaio Ma per comodità Lo chiameremo in questo modo La prima è stata L'ondata Dei meme Tantissime persone Che ci hanno fatto Dei video ironici Delle battute Molte di queste Piuttosto divertenti Dobbiamo essere onesti Altre invece Un po' esagerate E questo video Per quanto è allucinante È diventato virale Anche nel resto del mondo In America Per esempio C'è questo post Su Twitter Con la descrizione Un fan di Biden Avvistato Alla stazione di servizio locale E poi il video Ormai famosissimo In questo caso Ha superato I 15 milioni Di views E questo video È diventato talmente Tanto virale Che un sito web inglese Assurdo Che delle robe virali Successe in Italia Poi vanno a finire In America Di solito è il contrario Si occupa di scrivere E spiegare I meme Ha dedicato Una pagina Proprio a questo video Un supporter di Biden È stato avvistato Infilzare la pompa Della benzina In quel posto L'asciucante video virale È stato diffuso Su Reddit E Twitter Diventando Un bait Non cercarlo Su Google Il video originale È stato registrato Da qualche parte In Italia E il posto originale È stato cancellato Dal suo autore Ragazzi rendiamoci conto Che il motivo Per il quale l'Italia Diventa virale In tutto il mondo Non è per qualcosa Di positivo Cosa di essere orgogliosi Ma un video Di un tizio Che prende una pompa Di benzina E decide di metterla Dove non batte il sole Magari adesso Ci sarà qualcuno Convinto Che in Italia È un'abitudine normale Quella di divertirsi In questo modo Allo stereotipo Tizia Mafia mandolino Possiamo tranquillamente Aggiungere anche Le pompe di benzina Una cosa Che però forse Vi starete chiedendo È perché Questo video È diventato virale In America Descrivendo il tizio Come un supporter Di Biden E il motivo Ce lo spiega Questo articolo Dicendo che Molti utenti internet Americani Che stanno ripubblicando Il video Della pompa Della stazione Di servizio Definiscono L'uomo misterioso Un liberale L'idea Che questo tizio Sia un sostenitore Di Biden È un argomento Di tendenza Perché Probabilmente Ha a che fare Con gli alti prezzi Del gas Sperimentati finora Durante la presidenza Di Biden Posso dire Che è sia ammirevole Che inquietante Come gli americani Abbiano preso Un video di questo tipo Dove c'è un uomo Che fa quello Che sta facendo Hanno avuto la capacità Di trasformarlo In un argomento politico Una cosa però È vero Quello decisamente Pi inquietante È un tizio Che si è fatto Un tatuaggio Di questa scena Ma perché Ci ha messo Maria Sofia Sopra Dunque il ragazzo Non sta bene Cioè Che cazzo di tatuaggio Ti si è fatto Ma si è proprio Era sotto fette di droga Gli hanno fatto L'ipnosi Gli hanno L'hanno obbligato Allora Io non sono esperto Di tatuaggi Non ne ho neanche uno Anche se presto Probabilmente Rimedirò Anche se tranquilli Non farò pure io Quel benzinaio Però questo È per dire Se qualcuno Se ne intende Può per favore Dirmi e confermarmi Che non si tratta Di un tatuaggio Permanente E che è solamente Una cosa temporanea Perché se già fare Quelle cose Che faceva quel tizio Col cappello arancione È assurdo Farsi un tatuaggio Di quella scena Potrebbe essere Ancora più stupido Ma insomma Questa è stata la fase A me sembrava vero Perché C'era del rosso intorno Uno di questo scandalo Non lo so Tantissima gente Che ci fa dei meme Tantissimi che provano A farsi follower Dicendo che lo mandano A chi li segue Addirittura c'è anche Chi si inventa Dei video Che non esistono Stava anche circolando Uno screenshot Di un video Che sarebbe Un presunto video Di scuse Di questo benzinaio Ma ragazzi In realtà quel video Non esiste È solamente Uno screenshot Preso da non so dove Quindi tanti meme Tante cose inventate Alcuni decisamente Hanno esagerato E quindi Arriviamo alla fase Due di questa vicenda Quella più recente Che è la fase Dei moralisti Cioè alcuni influencer Che hanno cominciato A farci dei video Abbastanza moralisti Insomma E detta così Può suonare male Ma in realtà Non dovete fraintendermi Perché molte cose Che hanno detto Le condivido Cioè che probabilmente Si tratta di una persona Che potrebbe Aver bisogno di aiuto Che condividerlo ovunque Con la sua faccia In primo Beh cazzarola Per forza Ha bisogno di aiuto Una persona Che si fica Una pompa nel culo Dal benzinaio Così Cioè Non è che potrebbe Aver bisogno di aiuto Ha bisogno di aiuto Cioè Non può essere Diversamente Però posso dire una cosa Se dovessi visto Io da sta scena Dal vivo Eh Io Non avrei mai Fatto il video Io avrei Chiamato la polizia Non è stato Censurato il volto Il video originale No Perché L'ha fatto una persona L'ha mandato Poi penso I suoi amici O qualcuno I conoscenti Guarda che cazzo Ho visto oggi E poi è stato condiviso Sui social così Mi sembra aver capito Io sarei scappato Io Mi sarei sicuramente Allontanata anch'io E Avrei chiamato Qualcuno Perché Cioè Non è Non è normale Tutti chiamerebbero La polizia Ma non credo Sia stato fatto Vitto La prima cosa Che è stata fatta È stata Una bellissima Ripresa Con il telefono Io sarei scoppiato A ridere Beh Ognuno regisce Delle cose Di questo tipo In maniera diversa Io ci sarei rimasta Molto male A vedere una roba Dal vivo Di questo tipo Non mi sarei messa A ridere Ci sarei rimasta Molto male Scioccata Traumatizzata Probabilmente Sì sì Ecco Anch'io Ho visto il video Senza nulla Ripeto Non l'ho visto Perché l'ho cercato L'ho visto Per puro calzo Sconvolto a vita Eh sì No lui ha i suoi problemi Ok Ma puoi giudicare Una persona Che ha dei problemi Mentali Di questo tipo Perché effettivamente Sono problemi Mentali Cioè Però io Quasi giudico Di più Quello che Si è messo lì A riprendo Più che Quello che ha ripreso Vabbè Ti dico È brutto Però l'ha fatto Va bene Più che altro Tutti quelli che Non lo so Hanno memmato Un botto Sta cosa Cioè Non la trovo Una roba Così tanto Divertente Io Non lo so Sì Ma tipo Il 25% Il resto Forse perché Forse perché Questo Povero uomo Effettivamente Non sta bene Non lo so Eh sì È problemi mentali Sputtanato in tutto il mondo Pensa anche ai familiari Esatto Ha rovinato anche La reputazione A quell'uomo Con il video Chissà che fine Ha fatto adesso Sta persona Che ha ripreso il video Non so Diverte la prima volta Poi capisci Che è una persona Con problemi Vabbè Ognuno Cioè Nel senso Magari io le prendo Troppo sul serio Le cose Quindi Va bene Capisco Quelli che Hanno riso Cioè Normalissimo Secondo me Cioè in realtà no Secondo me non è normale E' riso Anche perché io Ci sono rimasta male Quando ho visto il video E ho voluto rimuoverlo Dalla mia testa Però capisco Un pochino Quelli che hanno riso Cioè Abbiamo tutti Delle reazioni diverse Probabilmente è normale Non lo so Non era divertente Neanche Lelo Il signore Barise Ubriaco A cui provavano A dare una mano Eppure anche lui È diventato meme E questa cosa Non la so io Questa persona Può denunciare A chi ha fatto il video Avrà grossi problemi Se lo trovano Sì è vero Gabri però A sua volta Può essere denunciato lui Cioè non so Non so che fine Ha fatto sto signore Adesso Chissà come è andata A finire Anche lui Non è che ha fatto Una cosa normale Secondo me Non fa ridere Immagina passare Conto file A vedere un maniaco Che fa sta roba Oh assolutamente Assolutamente Però si sa Com'è su internet Dai raga Cioè Dire C'è stata A questa persona Che si è ficcata Una pompa Di benzina Nel culo Suona Così Cioè fa ridere Così Così fa ridere Però quando effettivamente Vedi la scena Vedi la faccia Cioè ti rendi conto Che effettivamente Non è Non è Normale Vabbè ma anche Mi ficarsi una pompa Nel culo Non è normale Però Sono piuttosto d'accordo Se ha problemi mentali Non lo puoi incolpare Non mi metto a sindacare Perché non lo conosco E da una clip Di dieci secondi Non è che si possa giudicare Anche se chiaramente Quello che ha fatto Non è esattamente Una cosa che normalmente Le persone pensano Se Pedro Tutte in fino a giorno Però comunque Tutte le argomentazioni Condivisibili Il problema è che Da queste permesse Sono arrivata a leggere Dei commenti E vedere dei video Con delle argomentazioni E ragionamenti Ridicoli Tipo che La realtà E che i veri mostri Siamo noi che abbiamo riso Lui non ha fatto niente di male Che voglio dire No 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 Calma un secondo E' vero che chi ha filmato Non avrebbe dovuto condividere Il video senza censure E che la punizione Chiaramente non è Una gogna mediatica In nessun caso E chi continua a condividere In questo modo Sta sbagliando Ma ricordiamoci che Quello che sta facendo In pieno giorno Erano atti o sceni In luogo pubblico Sono delle azioni Molto gravi E se fosse passato di lì Un bambino Rischiava di rimanere traumatizzato Quindi va bene criticare E cercare di fermare Chi continua a condividere Quel video Con la sua faccia ovunque Insultandolo O peggio Con gogne mediatiche Che non fanno mai bene E non vediamo certo Che questo signore Reagisca in modo molto negativo Ecco Giustissimo E sono con voi Non facciamo nemmeno finta Di non sapere Da dove è partito Tutto quanto E cioè per degli atti osceni In luogo pubblico Ho visto anche dei video Sono curiosi cyber Che non stanno davvero in piedi Non riescono a immaginarsi la cosa E voglio vederla Che per me è un paragone Veramente senza senso Perché sì Tutti e due sono dei video Diventati estremamente virali E la situazione è sfuggita di mano In tutti e due i casi Ma quello che facevano le persone In quei video È totalmente diverso Da un lato Era una ragazza In atteggiamenti intimi Con il suo fidanzato In privato Non sta facendo niente Ma aspetta Di che cazzo sta parlando Non so chi sia Perché sì Tutti e due sono dei video Diventati estremamente virali E la situazione è sfuggita di mano In tutti e due i casi Ma quello che facevano le persone In quei video È totalmente diverso Da un lato Era una ragazza In atteggiamenti intimi Con il suo fidanzato In privato Non sta facendo niente Di male a nessuno Nessun reato Niente che potesse Dar fastidio a qualcuno Dall'altro lato invece Parliamo di una scena Di un uomo Che fa delle cose Abbastanza spinte In un luogo pubblico In pieno giorno Che se fosse capitato Un bambino Lì a vederle Di certo Non sarebbe stata Una situazione piacevole Ma neanche un adulto In realtà Questa differenza ovviamente Non è che giustifica Come le persone Si stanno comportando In questo caso Che sia chiaro Ma solo perché le persone Stanno sbagliando Non vuol dire Che dobbiamo fingere Che non sia un problema Quello che è successo Come dicono Questo signore davvero Avrebbe bisogno di aiuto Mi auguro che Dopo questo episodio Riceva questo aiuto Di cui ha bisogno Di certo Non ha bisogno di persone Che lo insultano Magari anche nella vita reale Spero che non stia succedendo Soprattutto se Già dicono Che sia una persona Un po' problematica Di certo Non vogliamo Esasperare questa situazione E portarla a fare qualcosa Di tragico Quindi Giusto cercare di arginare l'odio Veramente Lorenzo Quelli che stanno condividendo Con i video senza censure Per fare qualche follower O chi prende parte A gogne mediatiche Che non portano A niente di buono Trova anche abbastanza Imbarazzanti I finti perbenisti Che stanno facendo Dei discorsi deliranti Ignorando completamente Il vero problema In ogni caso Per questo video Penso che sia tutto Mi raccomando Non mettetevi pure voi A condividere questo video Senza censure Alimentando questa cosa Ancora di più Io comunque Non approfitto Per ringraziare Tutti quanti Gli abbonati Doveva proprio specificare Senza censure Dai tweener Potevi dire Non mettetevi a condividere Il video è basso Dai Con le censure Va bene Va bene Va bene Brutta storia È veramente Una brutta Brutta storia Da volte Io mi chiedo Cosa passa Nella testa Di certe persone Facendomi perdere Sempre di più La mia fiducia Nell'umanità Ma che cazzo C'è la fiducia Nell'umanità Quest'uomo ha di problemi Spero che abbia un aiuto La prima cosa da fare Se si assiste A una situazione del genere Non dovrebbe essere Filmare Ma per fare views Purtroppo non si pensa Alla persona Che avrà la vita rovinata Siccome era più gradevole Vedere il tatuaggio Che alla faccia di Maria Sofia Adesso Sembra un po' esagerato Vabbè In Italia c'è chi fa questo Ma negli States Salutato Non direi che ancora Ancora stupiti Da sono avanti Ma è vero Sì Vero 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 Vero